Buongiorno amici della Azzurri, benvenuti a questa nuova puntata di Interagire. La puntata sarà condotta come sempre da me Marco Rizio e da Angela Galletta. Ciao Angela. Buongiorno a tutti, ciao Marco, buongiorno a tutti i nostri ospiti. Io ricordo come al solito i nostri contatti, potete inviarci le vostre mail all'indirizzo diretta, diretta, caccia, intertivo, tweet, oppure iscriverci sulla piccola di Facebook. Quest'oggi due ospiti grandissimi, il primo lo presenterei così. Mi chiamo Evaristo, scusatevi se insisto, abbiamo il grande Evaristo Beccarossi. Ciao Evaristo. Ciao, ciao, buon poverizzo a tutti. Ho visto Ramaioli e Reccancati, e Beccar, ci vediamo, e li ho trovati qua, eccoli qua. Abbiamo fatto anche un anno oggi, Giorgio Ramaioli, ciao Giorgio. Ciao a tutti, tanto tanto piacere di essere qua. Un po' di amico Beccar, un reimpatriato.